Al via il primo seminario informativo di approfondimento sul bando dei FAS riservato alle piccole e medie imprese. Domani 1 luglio alle ore 16 presso la sala Conveni Sviluppo Italia sul Mona si terrà il seminario per il rafforzamento e la creazione d'impresa mediante nuovi investimenti per l'innovazione tecnologica, TIC, turismo, tipicità locali e green economy della Valle Pellinia per il bando Fpar FAS 2007-2013. Il bando è riservato alle imprese che abbiano almeno una sede operativa nella Valle Pellinia. Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto la cui intensità è compresa tra il 40% e il 60% della spesa per investimenti materiali e materiali ritenuta ammissibile. L'importo dell'aiuto concedibile non può superare l'ammontare di 200.000 euro nel rispetto del regolamento dell'Unione Europea numero 1.407 del 2013 secondo il principio del De Minimis. Il bando ha una dotazione finanziaria iniziale di 1.700.000 euro. Domani a Sulmona per spiegare i termini del bando FAS interverranno Giovanni Lolli, Vice Presidente della Regione Abruzza e Assessore Regionale dello Sviluppo Economico e Antonio Mancini. Scopo dell'incontro sarà quello di fornire tutte le informazioni utili alla partecipazione al bando delle imprese interessate. Grazie. Grazie.